Io sono delantera 9 Una punta centrale, un classico 9 La mia caratteristica è cercare di fare gol Non solo fare gol, ma cercare di farlo fare anche Nell'Atalanta apprendi molto Sì, ho imparato molto in questi mesi all'Atalanta Sul gioco italiano, sullo stile di vita che c'è in Italia Ed è una squadra che mi ha aiutato molto Non ho avuto molte opportunità, però adesso sono qua Sì, quando c'è, ho parlato con Elme Ho parlato con Diego Lopez, mi ha brevemente spiegato come intende giocare sul sistema di gioco So che è un allenatore serio e che metterà tutto il suo impegno per questa squadra Conosco Cavani perché è oltretutto della mia stessa città Abbiamo giocato nelle stesse squadre Per me è un orgoglio essere paragonato a lui Però ovviamente io devo fare la mia strada Sì, la Serie B è un campionato molto forte Che si basa molto sul piano fisico E se sono qua per dare il meglio Può essere che le mie caratteristiche siano buone per questo campionato Sì, giocarlo il massimo possibile E darlo al meglio per l'equipo Giocare il massimo possibile e dare il meglio per la squadra È il mio obiettivo per quest'anno